Michele Brunelli, vale a dire la Brenta, vuol dire anche insieme per l'indipendenza. Allora io da buon padre di famiglia, quello che sogno per i miei figli, penso anche, valga per te, la propria indipendenza, quando si dice arrivi è grande, una certa indipendenza. Se andiamo nel nord Europa l'indipendenza è proprio nel codice, nel DNA. Nel nord Europa i servizi funzionano meglio che da noi, insomma si respira un'aria diversa. Allora a me piacerebbe chiederti cosa potrai fare un domani se tu fossi alla governance del comune di Bassano per quanto riguarda non soltanto i ritorni a livello di tasse da Roma, ma anche l'esigere degli spostamenti più veloci. Si parla di città allargate, io vorrei che da Bassano a Trento e da Bassano a Venezia ci si andasse in mezz'ora, così forse ci sarebbe più indipendenza e anche un po' più di rispetto per i nostri figli. La domanda esige una risposta molto ampia. In prima cosa diciamo che per noi l'indipendenza, questo ci tengo molto a precisarlo, non è un fattore di chiusura ma è un fattore di apertura. In linea generale essere indipendenti come Stato vuol dire avere propri rappresentanti all'estero, quindi per noi l'indipendenza oltre che avere una ragione economica ha anche una ragione di internazionalità e di apertura. Detto questo e calandosi poi nel livello amministrativo, l'esperienza che ho avuto la possibilità di avere all'estero dimostra anche la necessità di una maggior coordinazione dei servizi, per esempio, giusto per tornare alla domanda, non solo a livello intracomunale ma anche a livello intercomunale, quindi di comprensorio, la possibilità di avere un biglietto unico per gli spostamenti, che sia treno piuttosto che autobus, la possibilità di condividere anche costi e servizi di altro tipo, secondo me è un argomento che noi dovremmo molto, molto, molto rielaborare in base alle esperienze che ci sono all'estero. A me piacerebbe poter portare la mia piccola esperienza che ho avuto. All'interno di una governance, voi vi impegnate chiaramente a creare quell'indipendenza che serve proprio a sostenere quello che è l'impianto, specie dei giovani. Non sembra che ci sia, non ti sembra che sia una lacuna anche attraverso i nostri giovani di competenze. Mi viene in mente che l'Italia forse è l'ultimo posto nell'Europa in quanto i nostri giovani non sanno le lingue, in altri posti il minimo, minimo due lingue le sanno. Qua dobbiamo partire e mandarli a destra e a sinistra per imparare qualcosa. Anche qua si può fare molto a livello educativo. Sì, un piccolo sguardo al passato ma in maniera costruttiva. Ci mostra per esempio che proprio Bassano è la zona del Bassanese. Una volta era la zona di Cerniera fra Pianura, che all'epoca era Veneta, e Montagne, dove all'epoca si parlava il Cimbro, una lingua germanica. Allora, questo episodio del passato potrebbe anche insegnarci che forse guardarci indietro significa anche riproiettarsi in avanti. Cioè non deve essere un passato, una nostalgia, ma deve essere veramente un trarre l'insegnamento. La nostra valle, da cui noi abbiamo preso il nome, il Brenta, la valle in cui passa il Brenta, è proiettata verso l'Europa. Questo, nella nostra ottica di lista, dovrebbe avere almeno due declinazioni. Una, quella economica, turistica, quindi Brenta come proiezione verso l'Europa, verso anche un mercato che ha più soldi e che è naturalmente attratto dalle nostre terre. La seconda è quella dell'educazione anche linguistica, ma anche culturale, che servirebbe alla nostra gente per poter poi rapportarsi meglio con questo tipo di mercato. Quindi parlo sapere le lingue, sapere gestire un cliente straniero. Sono tutte declinazioni che sono un po' riassunte nel nome della Brenta. Quindi noi non c'è salto che farti un in bocca al lupo per questa campagna. Un grosso in bocca al lupo. Senti i venti buoni dentro il tuo cuore? Io ce la metto tutta e per me è la prima volta che mi presento come candidato consigliere. Quindi dal mio punto di vista ce la metto tutta. Poi che San Marco ci aiuti!